benvenuti in questa guida top 7 lettori dvd di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo lettori dvd per tv dvd cd mp3 questo lettore dvd è un prodotto di qualità eccellente ha una presa usb uscita hdmi e av cavo hdmi e av incluso telecomando e spine europea funziona con tutte le regioni ed è molto facile da usare la qualità dell'immagine e del suono è eccellente punteggio 78 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo sony bdps 1700 lettore blu-ray full il sony bdps 1700 è un lettore blu-ray di qualità eccellente offre una riproduzione full hd porte usb e hdmi ethernet e un design elegante la qualità dell'immagine è eccezionale la navigazione è semplice e intuitiva un ottimo prodotto per chi cerca un lettore blu-ray di alta qualità punteggio 78 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo lettore dvd per tv con questo lettore dvd è una soluzione perfetta per chiunque abbia bisogno di riprodurre tutte le regioni è semplice da usare anche per gli anziani e include un cavo hdmi e rca la qualità dell'immagine è eccellente il lettore cd è ideale per l'impianto stereo domestico punteggio 82 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare sony lettore dvd dvps r370 b il sony dvps r370 b è un lettore dvd di qualità con una buona connettività il cavo x vid e l'usb rendono la riproduzione dei contenuti semplice e veloce la qualità dell'immagine è eccellente il design compatto lo rende facile da trasportare ottimo per chi cerca un lettore dvd di qualità a un prezzo accessibile punteggio 85 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo majestica hdmi-579 lettore dvd mp e g4 majestica hdmi-579 è un lettore dvd di alta qualità con uscita hdmi e ingresso usb il design elegante e compatto lo rende facile da installare e utilizzare la qualità dell'immagine e del suono è eccellente offrendo un'esperienza di visione di prima classe punteggio 91 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo lettore dvd compatto per tv questo lettore dvd compatto è una soluzione eccellente per l'uso domestico supporta formati come mp3 mp e g4 hdmi av usb e mic ed è multiregione la qualità dell'immagine è eccellente e la navigazione tra i menu è intuitiva ottimo prodotto punteggio 95 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica sony dvd sr 760 h lettore dvd lettore cd il sony dvd sr 760 h è un lettore dvd di alta qualità con una buona gamma di funzionalità l'upscaling 1080p offre un'eccellente qualità dell'immagine mentre l'ingresso usb consente di riprodurre contenuti da dispositivi esterni il dolby digital offre un suono nitido e chiaro punteggio 96 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti